La pasta, è buona la pasta Oggi è la giornata mondiale della pasta e insomma lei la mangia Mi piace molto la carbonara e niente, poi tutte le altre vanno bene comunque In tutti i modi, con tutti i sughi possibili e immaginabili La mangio poco, però mi piace, non la mangio per motivi di salute, però mi piace In tutti i modi noi la mangiamo, allo scoglio, al sugo, al pesto, tutti i tipi Ma in tutti e due i modi, sia il sugo sia la pomarola, in tutti e due i modi No, di più no, forse più pomarola ma insomma Sugo preferito, sugo di cervo, sugo di capriolo e sugo in tutte le salsi Lei le cucina tanto di pasta? No, io non la faccio in casa, la compro fatta Sì, per tutta la famiglia, in modo particolare, no no, per tutta la famiglia In casa si mangia, ma anche apprezzo anche i ristoranti occasionalmente Certo, per i figli, per il marito, capita anche per me Dica la verità, ce la invidiano un po' nel mondo la pasta Ma questo non lo so, da italiano direi che ce la possono invidiare Perché all'estero non si mangia come in Italia A noi sì, i siciliani, ce la invidiano Tantissimo, quello senz'altro Io sono andata in giro un pochino per il mondo E quando mi dicevano ma da dove vieni? Dall'Italia Ah, l'Italia è la nazione, è il paese della pasta La pasta, è buona la pasta